Ciao Ilaria, tu sei l'insegnante di musical del MAS, il tuo è il primo Cosmo Dance Lab della giornata, volevo chiederti quali sono le qualità che servono per partecipare o lavorare in un musical? Le qualità sono essere più a 360 gradi possibili, quindi canto, danza, recitazione, il più possibile essere preparati in tutte e tre le discipline. Non facile? Non facile, la scuola serve apposta e sì però è poi una volta che si sale sul palco e si applicano tutte e tre, si entra in una magia unica. I set di titoli di musical ce ne sono tantissimi ma tu ce ne suggerisci qualcuno da vedere assolutamente? Su qualcuno faccio fatica perché me ne piacciono a me personalmente tantissimi, WSI Story, Chorus Line, Cats, Billy Elliot hanno fatto anche il film, Mary Poppins, I Miserabili, Phantom of the Opera, posso stare qua ore, più moderno c'è Hamilton, American Idiot con le musiche dei Green Day, Next to Normal che è un po' più di pancia, si esce un po' meno allegri. Insomma a seconda delle corde che vogliamo toccare, infatti ti volevo chiedere quali sono le emozioni che regala il musical? Le emozioni sono, intanto appunto dipende da quale spettacolo si va a vedere, Grease può rilasciare un'emozione differente da magari un Next to Normal che ha delle tematiche molto più, non importanti perché non è corretto dire così, ma che vanno a toccare altre corde, però usando le tre arti come forma di spettacolo le corde sono molteplici. Ok, io ti ringrazio Ilaria e ti lascio praticamente a questa lezione piena piena di energia, grazie ancora, balliamo tutti. Grazie a te, assolutamente, grazie. Allora, lavoreremo su una coreografia che è tratta dal musical Saturday Night Fever, Boogie Shoes si chiama, non faremo la versione del musical ma faremo la versione tratta da Glee che è stata riarrangiata, quindi è un pochettino più moderna. Questa coreografia è nata durante il periodo del lockdown in cui questi meravigliosi ragazzi che sono i ragazzi del corso di musical qui al MAS sono stati costretti a fare lezione online e quindi è nata tra le mura di casa, quindi state tranquilli, non viaggerà tantissimo. È ovvio che una coreografia su un palcoscenico in un musical prevede spostamenti, prese. Noi lavoreremo più stilisticamente ma se avete poco spazio, avete muri vicino, armadi, non andrete a sbattere, almeno in questo modo, ma potrete entrare nello stile di questo musical divertendovi anche a casa vostra. Allora, giusto per entrare un po' nella performance, l'unica cosa che vi chiederò sarà di concentrarvi, pensare di essere come in una discoteca e la musica partirà, farà tu, 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 un, due, tre, qua. Sul quattro noi prenderemo una posa, molto da fighissimi, quindi la prima posa i ragazzi spariranno ed entreranno in scena, quindi sarà anche per voi, sento la musica o ballo libero e al quattro mi frizzo e faccio una posa. Quindi avremo uno, due, tre, posa, cinque, sei, sette, posa. Potete usare colletti, tasche, quello che volete, anche per le donne. Poi avremo spalla uno, due, spalla uno, due, incrocio la gamba destra, arrivo, testa, come a dire di sì sulla parola listen. Poi ho uno snap, nello stile noi avremo questa cosa di usare il nostro collo, che fa anche bene alla cervicale, quindi uniamo l'utile al dilettevole. Avremo kick step, kick step, kick step, ball change. Kick step, kick step, kick step, ball change. Kick step, kick step, kick step, ball change. Allora, se sullo stile io ho più difficoltà, va benissimo fare calcio appoggio, calcio appoggio, calcio appoggio fuori, calcio appoggio. Se voglio mettere un po' più di stile, faccio un piccolo slide indietro e continuo a usare il mio collo. Ok? Facciamo solo questo. Ci, se, se, o, e, un, due, tre, e, ci, se, se. Ora ho un kick step e ora ho un boogie shoes. Apro, chiudo. Quindi farò perno su un tallone e su un metà tarso. Apro, chiudo, apro, chiudo. Kick step, boogie shoes. Quindi noi poi che abbiamo finito, kick step, kick step, kick step, ball change. C, e, se, se, e, o, avrò kick, chiudo, boogie shoes. Kick, chiudo, boogie shoes. E quattro boogie shoes. Un, cia, un, cia. In questo caso le braccia sono libere. Anche la testa, sentitevi liberi di fare quello che è più nel vostro corpo. Da capo. Quindi dopo le pose avremo un, due, tre, posa. Un, due, tre, posa. Spa, la, spa, la, incrocio. Listen. Un, due, tre, e qua, e un, due, tre, e qua, e un. Boogie, un boogie, boogie shoes, boogie shoes, boogie shoes, boogie shoes. Vado avanti ancora un pezzettino, poi proviamo con la musica. Da qui. I passi fanno. Uno, due, tre, ball change. Uno, due, tre, ball change. Uno, due, tre, ball change. Passo, passo, passo. Saltino per chiudere le braccia. È come se infilassi un megago, ok? Ogni volta infilo, un braccio segue il movimento. Quindi avrò giù, su, giù, continuo in filo. E su, continuo. Un, cha, un, continuo. Ora le braccia vanno sotto le ascelle e ho bounce. Funky chicken. Un, un, un. Chiudo. Da qui. Andiamo avanti fino alla fine del ritornello, poi lo proviamo con la musica. La gamba destra farà tallone, gamba sinistra, tallone, dietro, tallone. Chiudo. Twista avanti come se fosse un dondolo. Avanti. Chiudo. Da qua. Le dita. Ho il dito indice che indica. Su. E. Su. Chiudo. Un, due, tre. Qua. Quindi le braccia devono assecondare il movimento. Un giro lento del bacino. Uno veloce. Chiappa dietro. Un giro veloce del bacino. Arrivo con i piedi chiusi. Un, I want. Sulla musica. Quindi devo indicare le mie scarpe. Abbassare la schiena. Senza ingobbirmi. Ma è indico scarpa. Indico scarpa. E la musica fa un, I want, put on, pausa, my, mama, mama, boogie, shoes, onda, just boogie with you, quattro boogie, shoes, come prima. E qua è la fine del primo ritornello. Ha. Ha. E un. E un. Eci, essa, e ça, oh. Ok. Abbiamo finito i quattro boogie shoes. Abbiamo i piedi chiusi. Ora abbiamo ball change, clap step, ball change, ball change, clap step, ball change. Usiamo un po' di ritmica. E un, tre, e ci, se, e o. Se con questo passo siamo andati leggermente avanti, con quello successivo possiamo arretrare un po'. Gamba fuori, 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 sto, fuori, 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 sto. Nel gamba fuori ho una diagonale tra la punta del mio dito fino alla punta del mio piede. Testa guarda lontana, lontano, lontano, snap, su, 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 snap. Quindi dopo i nostri quattro boogie shoes, fine del primo ritornello abbiamo ball change, clap, ball change, clap. E su, 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 su. Su, su, su. Ora ho tallone, 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 profilo tallone, 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 ball change. Passo, 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 torno frontale. Quindi recupero il mio pubblico se fossi su un palcoscenico. Ancora una volta solo questo, poi mettiamo le braccia. Tacco, 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 ball change. Profilo, 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 uno. E come all'inizio? Kick, ball, change, kick, ball, change. Sono importanti le direzioni anche del corpo, quindi nel mio ball change sarò di profilo. Passo, profilo e qua mi mangio il pubblico. Quindi torno frontale. Nei quattro talloni è come se raccogliessi dell'aria. Lo snap non è necessario ma è questo. Due, tre e ogni volta ci deve essere questo movimento del bacino. Quindi io farò giù, 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 cambio, giù, fuori, un, giù, ball change. Passo, passo e kick, kick, ball change. E da qua parte il secondo ritornello che in una parte è diversa e in una parte è uguale. Quindi abbiamo finito il primo ritornello, per ricapitolare, che finisce con i quattro boogie shoes. Da qua io ho ball change. Non è vero? Sì. Ball change, clap, step, ball change, ball change, clap, step, ball change. E su, 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 e su, su, giù, giù, giù. Anche la schiena, scendo giù, 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 ball change. Testa alta, passo su, kick, ball change, kick, ball change. Da qui andiamo avanti col secondo ritornello che è simile, ma ogni volta come se fosse, detto così sembra strano, ma quasi come se fosse un charleston. Ok? Mentre il primo noi usavamo una gamba soltanto, adesso noi avremo passo avanti, passo dietro, passo e passo dietro. E ogni volta vado a indicare le stelle. Quindi da qua abbiamo passo e già col primo passo ho l'indice verso l'alto. passo, su, passo, passo, su, passo, e uno, due, uno, due, un, su. La seconda parte è identica. Un I won't put on, un my mama, mama boogie shoes, just boogie with you, se, se, oh. Ok, io farei un grande ripasso senza musica una volta, dall'inizio della coreografia, e poi lo proviamo con la musica. Finito questo pezzo, parte il dance break. Il dance break in un musical è il momento in cui la coreografia si può sfogare perché non si canta. Ok? Quindi in realtà tutte queste parti nel musical sono cantante live, mentre il dance break è il momento in cui il coreografo fa succedere fuochi d'artificio, salti, prese, ok? Quindi al momento in cui ci sfoghiamo, siccome siamo in casa, ci sfogheremo shakerando tutto quello che possiamo senza ucciderci. Quindi dopo che abbiamo fatto la nostra posa, posa, spalla, 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 giro, listen, and one, two, three, and two, two, three. Kick, 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 kick boogie shoes, un I want put on, un ma 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 boogie shoes, just boogie with you, set, set, ball change and one, three and four and one, three and four, testa un, lontano, lontano, e un, e giù, 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 ball change, passo, kick ball change, secondo ritornello, un, ah ah ah, un, ah ah ah, un, pa ba, un, pa ba, un I want put on, un ma 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 boogie shoes, just boogie with you, set, set, oh, e adesso i nostri meravigliosi ragazzi fino a qua ve lo mostreranno, ha ha, prego fanciulli, con la musica oh 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 kick, e oh, un, due, tre, qua, oh, giù, e ci, sac, sac, oh, e ora entriamo nel dance break, io non lo faccio non perché non ho fiato, ma perché loro sono più belli di me, ok, allora abbiamo finito, quindi adesso in teoria sia i ballerini che gli attori possono respirare e non cantare, ok, in un musical reale, e quindi ci si sfoga, quindi da adesso la mia gamba destra farà incrocio, fuori, incrocio, fuori, le braccia anche in questo caso sono libere, per cui da qua io avrò incrocio, fuori, incrocio, fuori, per girare gli uomini adesso useranno le braccia, le donne mettono le braccia dietro al collo, quindi avremo un, due, tre, qua, chiappa, 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 passo, ball change, quindi la gamba che ha fatto la chiappa girando, apre, incrocio dietro, slide, snap, ora avrò un rotolino con le braccia, il mio bacino spingendo avanti, uno, due, tre, quattro, io ho finito, chiappa, 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 passo ball change, slide, snap, la stessa gamba che ha fatto il mio touch, batte e va indietro, passo, chiudo, adesso senza stile o solo, apro, touch, apro, touch, quattro volte, apro, touch, mettendo un po' di stile io avrò slide, 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 i primi due hanno su, giù, su, giù, giro, giro, giù, giro, 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 giù, tutto questo è con lo slide, testa che segue su, 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 giù, giro, 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 ritornare musicalmente a imbattere con kick step, kick step, kick step kick step, kick step kick step, ball change quindi noi abbiamo finito i quattro boogie shoes inizio il dance break 1, 2, 3, qua 1, 2, 3, qua passo ball change slide e 1, pa pa, 1, pa pa, 1 su, su giù, giù giù, 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 su, giù su, giù, su su, giù, su, giù la gamba che ho fuori mi servirà per fare una camminata, le mani vanno in tasca e avrò avanti giro, avanti bacino dietro, uguale avanti, giro avanti, giro bacino, step ball change, abbiamo quasi finito la coreografia quindi resistete è una prova di fiato questo punto dopo che ne abbiamo fatto i nostri kick step il passo giro, passo giro è proprio da fighissimo e qua invece ho in filo ball change serve anche per riprendere il mio fiato pu, pu, cià, pum, pam avrò la gamba sinistra libera 1, 2, 3 qua su, giù su, giù poi mettiamo le braccia su, giù su, giù le braccia hanno questo che è tipico di southern ice fever e ho anche collo astruzzo un pa un pa su l'altra mano se mi serve la metto in tasca apro petto scendo su giù collo collo su giù su giù adesso farò dei serpentini con il pollice singolo singolo doppio per scendere singolo singolo doppio per salire stiamo andando verso la fine quindi c'è solo una cosa tecnica vado in filo passo passo ball change da qua faccio un giro come mi viene ok quindi se riesco tiro sulla gamba non riesco chiudo le gambe come voglio l'importante è che arrivo con le gambe aperte un colpo di ginocchia posa finale posa finale la posa che più gradite in cui vi sentite più fighissimi ok quindi velocissimamente dal dance break noi abbiamo finito il secondo ritornello con 4 boogie shoes parto gamba un cia cia un cia cia un chiappe donne mani dietro la testa step ball change slide e un papa un papa un cia su su giro 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 su giù su giù su giù su giù su giù su giù mani in tasca passo approfitto per respirare oh ha respiro respiro e oh step ball change ok da qua parto con il finale cero scusate e su 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 giù su seconda volta su 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 giù su scendo un cia doppio su un pa doppio un due tre cin sei sei e quindi le ginocchia sono e velocissimo otto posa da capo una volta tutto senza musica con i ragazzi ok senza entrata facciamo direttamente da dopo le pose mi ha fatto spalla spalla si giro testa e un due tre qua e un due tre qua e un e un boogie shoes boogie shoes boogie shoes boogie shoes infilo tre cia cia un tre cia cia un tre cia in un e un e un un I wanna put on un mamma mamma boogie shoes pai bam pam pai bam un I wanna put on mamma mamma boogie shoes just boogie with you sei sei ball change and one three four and one three and four respiro 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 and su and su and su giù un due tre chiappe fuori chiappe fuori chiappe fuori chiappe fuori ball chain passo passo and kick ball chain e e un I wanna pull on mamma mamma boogie shoes giro giro e e un I want pull on mamma mamma boogie shoes e cin chi sei dance break and one two e giro chi sei sei oh passo ball chain slide e un e un e un e su e giro giro e giro giro su giù su giù su giù su giù su giù mani in tasca un e tre e infilo seven eight and one and three infilo seven eight e su 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 ha 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 e su su e su su e e e e giù 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 e su 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 un due tre e qua cin set o ok per chi è un po' più sborone come Mario faccio due giri e arrivo solo un giro solo ok quindi non vi fate stressare dai giri che è l'unica cosa tecnica che abbiamo inserito ok adesso faremo per l'ultima volta tutta la coreografia con la musica anzi i ragazzi vi mostreranno per l'ultima volta tutta la coreografia con la musica quindi il palco è loro e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che vi siate divertiti anche voi, questa era la nostra coreografia, la lezione di musical, loro sono i meravigliosi ragazzi del corso di musical del MAS, ci rivedremo online con la coreografia, scusate, con la lezione di Pop Fusion. Grazie mille per essere stati qui con noi e buon divertimento.